Bentornati sul canale Giornalismo del Cuore Italia 1. Oggi con le ultime notizie come Lulù Selassie sarà la protagonista del video di Bandana. Un tam tam social partito non si sa da dove, ha dato quasi per certa la presenza della principessa etiope nel video dell'ultimo singolo di LDA, il giovane cantante uscito da poche settimane dalla scuola di amici e che sta scalando la classifica di Spotify con il suo brano Alla domanda ormai divenuta insistente ha risposto LDA in una intervista rilasciata al settimanale Chi, ecco le sue parole La verità è che io non ero a conoscenza di questa cosa fino a una settimana fa Non voglio dire una scemenza, penso proprio una settimana fa. Non so bene da dove sia partita questa cosa, mi devo ancora schiarire le idee Su Twitter ha iniziato a girare questa cosa ma totalmente a caso, io e lei non ci conosciamo Se vuole fare il video per me non ci sono problemi. LDA ha colto l'occasione per lanciare un vero e proprio appello alla principessa Lulu se vuoi scrivimi, ci organizziamo magari per un futuro video di bandana Io ti giuro non sapevo nulla di questa cosa, mi dispiace perché hanno fatto questa cosa e non ci conosciamo nemmeno Però se vogliamo fare il video, facciamo il video. Non ci sono problemi Punto grazie per aver guardato l'intero video. Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discutere Non dimenticare di iscriverti al canale per ricevere le ultime novità prima degli altri Ci vediamo nei prossimi video. Ciao